Il salone dell'aftermarket e delle attrezzature internazionali Autopromotec 2022 ha rinnovato la comprovata rilevanza di DAS Europe Electrical Products. L'azienda toscana, con sede madre ad Empoli e schillata nella distribuzione di motorini ed alternatori, ha saputo, in questa importante manifestazione, ancora una volta mostrare la qualità del software market al pubblico dei professionisti accorsi nello stand aziendale. La DAS finalmente torna in fiera, ci riproponiamo di nuovo su questa ampia manifestazione che a livello internazionale, come anche l'azienda che rispecchia il suo fatturato importante sulla piattaforma italiana ma anche all'estero. In questa manifestazione speriamo ovviamente di riabbracciare non solo in modo virtuale tutta la nostra clientela e di proporre anche ai nostri clienti nuovi servizi che stiamo offrendo negli ultimi anni, sui quali ci siamo molto impegnati e soprattutto nella formazione del personale interno che assiste tutta la nostra clientela con il servizio WhatsApp, nell'individuazione proprio dei prodotti in modo corretto e soprattutto anche la formazione tecnica che è sempre più importante oggi con le attuali tecnologie che troviamo sulle nuove vetture. Spesso i nostri ragazzi aiutano proprio via telefono, anche tramite i vari canali social, anche i clienti nell'installazione proprio corretta dei prodotti. Oltre a questo, negli ultimi anni, proprio negli anni della pandemia, precisamente abbiamo aperto la prima filiale, oltre alla sede centrale di Empoli, a Pero a Milano nel febbraio del 2020. Questo ci ha permesso di dare molto servizio, soprattutto a livello bigiornaliero, grazie ai corrieri regionali, alla nostra clientela della zona nord-ovest. La rescita aziendale ci ha fatto sì che, nonostante gli anni della pandemia dove tutti abbiamo sofferto, l'azienda è voluta andare avanti e abbiamo aperto lo scorso febbraio, quindi nel 2021, la filiale di Padova per coprire il servizio a livello bigiornaliero su tutto il nord, perché con Padova giustamente riusciamo a fare tutto il nord-est. Poi, lo scorso mese, abbiamo aperto l'ultima filiale, che è quella di Ciampino a Roma, dalla quale riusciamo a spedire, sempre nella stessa modalità, quindi mattina, pomeriggio e pomeriggio per la sera, su tutto il Lazio, tutta la Campania e anche la dorsale adriatea, quindi Marche, Abruzzo e Molise. Le ambizioni aziendali sono sempre molto importanti, nonostante siamo ancora monoprodotto e crediamo tantissimo ancora sulla nostra capacità di far crescere la gamma, abbiamo affiancato negli ultimi anni ai motorini alternatori anche tutta la gamma dei motorini tergi e tutti i nostri prodotti sono visibili e possono essere ricercati su tutti i motori di ricerca, quindi TechDoc in fuoricambi in primis. Dopo questa importante manifestazione a livello internazionale parteciperemo anche ad Automeccanica a Francoforte, anche lì per rivedere finalmente anche tutti i nostri clienti esteri. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS